Sì, noi adesso abbiamo un allentamento della situazione rispetto a due settimane fa che è tangibile, considerevole. Gli accessi al pronto soccorso sono molto pochi e abbiamo ancora la coda in quanto tutte le terapie subintensive per esempio sono ancora piene, 28 posti. Le terapie intensive sono piene a metà, poi ci sono ovviamente i pazienti che sono nelle degenze ordinarie, però non sono più i numeri di prima, eravamo arrivati oltre 150 persone, adesso siamo intorno ai 65-70 pazienti complessivamente. Quello che ci auguriamo è che questo incubo possa finire qui, ce l'auguriamo con tutte le forze. Nello stesso tempo noi stiamo ritessendo la tela dell'assistenza ordinaria, di rimettere in campo tutti gli asset produttivi e delle varie prestazioni, specialmente di quelle di alta specializzazione e di quelle di alta intensità che erano rimaste indietro. La regione ci sta dando una mano proprio nel fatto di dire facciamo un piano unitario per la ripartenza e lo presenteremo nei prossimi giorni. Non c'è una data specifica, c'è sicuramente il fatto che contiamo in autunno, se non ci saranno altre ondate di questa pandemia, di poter arrivare alla normalità.